La stagione turistica a Lecco, soprattutto sul lago, sta andando a gonfie vele. Dopo un maggio difficile dal punto di vista climatico, il mese di giugno ha dato ottime soddisfazioni e anche luglio è iniziato positivamente per le strutture ricettive lecchesi. Ma c'è un problema, la mancanza di personale. Il presidente di Federalberghi Lecco e vicepresidente vicario di Confcommercio Lecco Severino Beri condivide il grido d'allarme che tanti colleghi stanno lanciando. Quella della carenza di addetti è una realtà contro cui ci scontriamo da diverso tempo e quest'anno pare essersi accentuata, spiega. Credo ci siano diversi fattori da considerare. Da un lato c'è la fatica a trovare personale specializzato, dai cuochi ai camerieri passando per la reception. In alcuni casi gli operatori hanno riscontrato mancanza di requisiti base, come ad esempio la conoscenza dell'inglese. Ma in altri casi anche la scarsa disponibilità ad accettare orari che inevitabilmente sono quelli di una struttura turistica. Nello stesso tempo ci sono difficoltà anche a trovare persone per profili diversi, come i lavapiatti o gli addetti alle camere. Oggi viviamo un'emergenza anche nelle chiese, continua il presidente di Federalberghi. La stagione è nel vivo e tanti hanno ancora posti scoperti. Credo ci sia un'azione formativa da continuare con i diversi istituti del territorio che preparano i ragazzi. Tanto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. Inoltre si può incidere molto anche sul fronte dell'incontro tra domanda e offerta. Poi c'è un aspetto culturale. Ancora oggi troppi ragazzi guardano con diffidenza questo mondo, mettendo in risalto soprattutto le rinunce personali che comporta. Ma se davvero l'Eco vuole essere sempre più protagonista nel turismo, conclude Severino Beri, Anche i giovani e i potenziali lavoratori devono comprendere il valore di un'occupazione nel settore della ricettività e della ristorazione.